La questione del canile è molto importante perché sono stati rilevati degli abusi edilizi nella struttura di San Giuliano e quindi è necessario forse trasferire i cani in un'altra struttura per alcuni mesi. Il problema è che l'assessore ha voluto forzare la mano e fare un blitz il giorno prima della commissione per portare i cani a Musile di Piave, al canile di Musile di Piave che però non ha secondo noi le necessarie garanzie e sicurezze per la buona custodia dei cani. Quel trasferimento a Musile di Piave dal canile di San Giuliano dove vanno svolti lavori per regolarizzare opere abusive e bonificare residui di amianto non piace al Movimento 5 Stelle che preferirebbe un'altra soluzione. Dopo quattro ore di commissione infuocate in municipio a Mestre la questione è stata rinviata ad una nuova seduta. Noi preferiremmo che anche spendendo 20 o 30 centesimi in più perché di questo si tratta, di risparmiare 20 centesimi, li si portasse ad una struttura più vicina come quella di Mira e dove si incentiva molto di più le adozioni e c'è magari un controllo più da vicino dei tanti volontari delle associazioni animaliste. C'è poi un'altra questione sulla quale insistono gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Secondo noi la concessione di affidamento ad AVZ che è l'associazione attualmente gestrice da 29 anni del canile deve essere revocata perché se questa associazione ha compiuto degli abusi edilizi peraltro in zona con vincolo paesaggistico come appunto San Giuliano la concessione deve essere revocata e deve essere fatto finalmente un bando di gara vero con cui scegliere il gestore nuovo.